Credo che l'Italia sia un paese sostanzialmente più che di eroi di guerra, di ingegnosissimi artisti e di straordinari imprenditori con un grande talento creativo e allora credo che Lavazza sia stato alla fine di quel secolo, all'inizio del secolo successivo, uno di quelli che ha incarnato in maniera abbastanza geniale questa capacità individualista che noi in qualche modo ci abbiamo. Ci vuole coraggio per partire in quegli anni, in quel secolo, alla fine di quel secolo, affrontare un viaggio in tutti i sensi. Jean-Pierre Genet è un uomo formidabile, un uomo formidabile, un regista straordinario. Sembrava di aver trovato qualcuno che conoscevo da molti anni, ma in realtà quando poi conosci i film di un regista e ami quei film, quando lo incontri, mi sembra di conoscerlo da tanti anni. Bevo il caffè perché è un italiano.